Partiranno sabato 9 aprile prossimo alle 19 i festeggiamenti per il 50esimo anniversario dell'istituzione della parrocchia Maria Santissima delle Grazie di Gela, un appuntamento fortemente voluto dai frati Cappuccini. Sabato la concelebrazione eucaristica sarà preseduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana. Poi verrà il ministro provinciale, verrà il vicario, l'amministratore parrocchiale, Padre Enzo Laporta, alcuni frati, i frati che si sono succeduti come paroci, Padre Enzo Zagarella, Padre Marcellino, Padre Piedriacono, l'ultimo paroco, prima di Padre Rocco. Padre Rocco è stato paroco dal 2007 fino al 2014 quando è deceduto. Ma vogliamo ricordare anche lui, infatti durante quella celebrazione a tutta l'Assemblea distribuiremo un ricordo abbinato, sia il luogo del 50esimo con dietro un po' e io ci tenevo a questo, perché questa festa non era per essere stata curata da me, no, Rocco ha desiderato molto festeggiare i 50 anni, ma oggi mi ci trovo al suo posto, tento fare del mio meglio e quindi vogliamo ricordarlo per tutti i lavori che lui ha fatto in questa parrocchia in questi sette anni. Negli anni 50 il vecchio convento, che vediamo nelle foto custodite dallo storico Nuccio Mulè, fu completamente demolito e poi rifatto. Nel 1958, dopo una raccolta tra i fedeli, il 2 luglio, il cardinale Clemente Micara incoronava la statua della Madonna delle Grazie. L'8 dicembre del 1966, la chiesa fu elevata a parrocchia. Prima chiesa conventuale, una storia antichissima, ristrutturata, molte volte negli anni 50 il vecchio convento venne demolito, inizia una nuova fase, già con il primo paroco, padre Enrico Abramo, e poi si sono succeduti tutti gli altri paroci, con il colto della Madonna delle Grasse, l'incoronamento nel 58, che poi inizia un po' la grande festa, fino ad oggi, che è molto sentita da tutta la città, noi e da anche altre persone che vengono. E quest'anno noi facciamo 50 anni di vita, 50 anni di parrocchia, e in questa celebrazione vogliamo ricordare non solo tutta la città, ma anche tutti i frati, tutti coloro che sono iniziato a paroci, in questa parrocchia, che hanno dato il loro contributo a edificare sempre più questa comunità parrocchiale.